Serie B Win, tutti i colori della passione. Trentasettegima giornata della campionato di Serie B Win, lo stadio Ezio Shida di Crotone, di scena la sfida fra la formazione calabrese e l'Atalanta. Crotone, reduce da tre successi consecutivi, insegue un apposto in zona, play-off alla formazione di Leonardo Menichini, di contro l'Atalanta, va all'assalto del primo posto distante due sole lunghezze e occupato dalla Siena. Parte forte la squadra ospita, attenzione la traversone, colpo di testa da parte di Sassa Bielanovic, pallone di poco a lato. E attenzione, palla incredibilmente persa a centrocampo da Correia, si invola Capitandoni, l'assist per Simone Tiribocchi, attenzione Tiribocchi, il gol, vantaggio dell'Atalanta al 29esimo minuto con il gol numero 11 in questa stagione per Simone Tiribocchi, che dunque raggiunge in avetta alla classifica dei capocannonieri nerazzurri, Cristiano Doni a quota 11 reti. Rivediamo ancora il destro vincente di Tiribocchi. Molto bello l'assist di Doni, destro sul primo palo che non lascia scampo a Bindi, sostituto dallo squalificato Belez. Ancora Doni pennella per la testa di Bielanovic, strepitoso intervento da parte di Bindi che evita un passivo più pesante alla sua squadra. Reagisce comunque il crotone, c'è questo lancio al centro dell'area per Cutolo, controllo. E poi il sinistro vincente nell'angolino, Aniello Cutolo. Arriva il pareggio immediato della formazione di Menichini con Cutolo. 12esimo gol stagionale, gran controllo a deludere Bellini. E poi il sinistro che non lascia scampo a consigli. Ancora Cutolo scatenato sulla fascia destra. Fa fuori sia Bellini che Tiribocchi, poi attenzione, gran tiro e la golla! Doppietta meravigliosa per Aniello Cutolo. Niente da fare per consigli che riesce solo a deviare il pallone. Forse un po' sorpreso nella circostanza il portiere Nerazzurro che si tuffa in ritardo. Fatto sta che Cutolo realizza un gol bellissimo il tredicesimo in questa stagione. E il Crotone passa in avvantaggio alla 44esimo minuto del primo tempo. Rivediamo ancora la meraviglia firmata. Aniello Cutolo davvero da posizione impossibile. Palo gol. E con le immagini passiamo alla ripresa. Dunque Calabresi in avvantaggio per 2-1. Subito Atalanta in avanti. Bellini lancio in profondità. Al volo ci prova Tiribocchi. Pallone troppo centrale per impensierire Bindi. Ancora la formazione di Colantuono. C'è una spinta ai danni di Donil. Il fallo commesso da Eramo. Cartellino giallo era diffidato. Eramo dunque salterà Vicenza Crotone. Punizione splendidamente battuta da Cristiano Doni. Arriva il pareggio dell'Atalanta al 54esimo minuto. Gol davvero stupendo. Su punizione del capitano. Dodicesimo gol stagionale per il capocannoniere dell'Atalanta. Attenzione poi. Partita davvero vibrante. Capovolgimenti di fronte continui. Qua ci prova De Giorgio al volo. Splendido intervento di Consigli. Grande esecuzione volante di De Giorgio. Dopo la sponda di Diuric. Attenzione spunto di Cutolo. Poi Khalil. Il fallo commesso da Doni. Attenzione cartellino giallo. Era diffidato. Doni salterà dunque Livorno-Atalanta. In programma venerdì prossimo. Calcio di punizione. Valoviso. Splendido. L'intervento da parte di Consigli. In tuffo. A dire di no alla regista della Crotone. Crotone che insiste. Qua c'è la ribattuta della difesa atalantina. Al volo. Ancora Loviso. Grandissima parata di Consigli. In tuffo. Decisivo anche in questa circostanza. Il portiere dell'Atalanta. E qua al minuto numero 39 della ripresa. Standing ovation per Agnello Cutolo. Sostituito da Parfait. Finisce 2-2 fra Crotone e Atalanta. Atalanta ora un punto dalla vetta.